Buddy Holly è ricordato come un pioniere musicale e un'icona del rock'n'roll. Proveniente da umili origini, questo giovane uomo ha cambiato radicalmente l'industria musicale. Sebbene l'icona musicale potesse sembrare affascinante con i suoi occhiali neri distintivi, il sorriso radioso e i completi impeccabili, dietro questa immagine pubblica si celava un ribelle deciso che viveva secondo le proprie regole e aveva grandi progetti, ma nascondeva anche molti segreti oscuri rivelatisi solo dopo la sua tragica morte. Cosa potrebbe aver nascosto mentre il mondo lo vedeva come il modello perfetto e un grande musicista? Preparatevi a scoprire la storia di Buddy Holly e a svelare dettagli che non conoscevate sulla giovane leggenda. Buddy Holly era noto per i suoi occhiali speciali la sua reputazione impeccabile e il suo aspetto ordinato che lo rendevano l'emblema dell'uomo americano nel rock and roll. Potreste sapere che la sua vita è tragicamente terminata in un incidente aereo il 3 febbraio 1959, una data ricordata come il giorno in cui la musica morì, ma in realtà c'è molto di più nella vita e nella morte di Buddy Holly, dall'ispirazione alla sua hit Peggy Sue, al suo interesse per attività paranormali oscure, fino a voci strane che circondavano la sua scomparsa. Dopo la sua morte, questi dettagli interessanti sono emersi, rendendo la sua storia ancora più unica. Continuate a guardare perché non vorrete perdervi nulla. Buddy Holly, il cui vero nome era Charles Hardin Holly, nacque il 7 settembre 1936 a Lubbock, in Texas. Cresciuto in una famiglia appassionata di musica, il suo legame iniziale con la magia di una melodia accattivante cominciò a svilupparsi. I suoi genitori, Lawrence e Della Holly, non erano affatto abbienti. Suo padre era sarto e sua madre si occupava della casa. Nonostante la loro modestia economica, le riunioni familiari si trasformavano spesso in sessioni musicali, con i due fratelli di Buddy, Larry e Travis, che condividevano con lui i primi accordi di chitarra. Quando Buddy entrò al liceo, la bellezza della musica lo catturò completamente. Il suo interesse per la musica fiorì durante gli anni del liceo, tanto che collaborò con suo fratello maggiore Larry, formando un duo musicale conosciuto come The Holy Brothers. Questa partnership iniziale permise a Buddy di affinare le sue abilità musicali e sviluppare una profonda passione per il rock and roll, che all'epoca era ancora in fase embrionale. Sebbene Patricia Lou, la sorella minore di Buddy, non fosse direttamente coinvolta nelle sue attività musicali, contribuì a creare un ambiente familiare di supporto. In quel periodo, l'era del rock and roll stava raggiungendo il culmine, influenzando molti giovani, e Buddy si innamorò del suo ritmo. Elvis Presley, con il suo stile musicale rivoluzionario, divenne una fonte di fascinazione per Buddy. Determinato, Buddy si rese conto che la musica era più di un semplice passatempo. Era la sua essenza. Collaborando con il suo amico d'infanzia Bob Montgomery, formarono un duo che rapidamente guadagnò riconoscimenti come la sensazione locale Buddy e Bob, incantando il pubblico in vari eventi comunitari. Sappiamo tutti che il percorso verso la fama di Buddy Holly è stato tutt'altro che lineare, affrontando numerosi ostacoli lungo la strada. Dopo un breve periodo con un gruppo bluegrass, intraprese un viaggio di sperimentazione con il suo suono unico. Nonostante le prime registrazioni, che non riscossero molto successo, Buddy bramava un'occasione per farsi notare che arrivò quando un talent scout della DECA Records gli offrì un contratto. Tuttavia questo viaggio fu pieno di sfide, poiché una serie di sessioni di registrazione portarono a risultati deludenti e la DECA decise di non rinnovare il suo contratto. Nonostante questo contrattempo, Buddy si dimostrò resiliente e determinato. Imperturbato dalla delusione, Buddy tornò a Lubbock, dove fece un passo audace formando una nuova band conosciuta come The Crickets. Fu con questo gruppo che Buddy colpì nel segno, offrendo una miscela unica di rock'n'roll con un tocco country che risuonava profondamente con il pubblico. Il loro primo grande successo, That'll Be The Day, portò Buddy e The Crickets alla fama nazionale. La canzone si ispirò a una frase del film di John Wayne, The Searchers, salendo rapidamente in cima alle classifiche di tutto il mondo. Con il successo di That'll Be The Day, Buddy Holly e The Crickets entrarono in una fase di slancio inarrestabile. Seguì una serie di successi, tra cui brani noti come Peggy Sue e Oh Boy. La band si esibì in importanti programmi televisivi nazionali come The Ed Sullivan Show e American Bandstand, consolidando la loro presenza sotto i riflettori del rock'n'roll. Il suono distintivo dei Crickets, caratterizzato dallo stile vocale unico di Buddy e dal suo approccio innovativo alla chitarra, conquistò un vasto pubblico. Giovani musicisti, ispirati dalle tecniche rivoluzionarie di scrittura e performance di Buddy, lo considerarono una figura innovativa nel rock'n'roll. Buddy Holly, insieme ai Crickets, non si limitò a pubblicare successi. Creò classici duraturi. Brani come Rayvon e Maybe Baby divennero inni per la cultura giovanile emergente. La loro musica mescolava ingegnosamente elementi di rock, rhythm and blues e country, dando vita a un suono innovativo. Tuttavia, ciò che distingue veramente Buddy è la sua abilità nella scrittura. A differenza di molti dei suoi coetanei, scrisse la maggior parte delle sue canzoni, stabilendo un'eredità di successi originali destinati a resistere alla prova del tempo. L'origine del nome The Crickets è affascinante. Buddy Holly, il frontman e chitarrista della band, trasse ispirazione da una frase comune nel linguaggio quotidiano. In quel periodo, la gente era solita esclamare «è più di grilli» per indicare che si trattava di qualcosa di eccezionale o che superava l'ordinario. Affascinato da questa espressione colloquiale, Buddy decise di chiamare la sua band The Crickets, con l'intento di significare che la loro musica era tutto tranne che ordinaria. Ora, come possiamo esplorare il collegamento intrigante tra Buddy Holly e il suo vero nome, Charles Hardin? Ti sei mai chiesto perché Buddy iniziò a includere il suo vero nome nei crediti delle sue canzoni? O perché non lo facesse inizialmente, come molti altri artisti? Bene, sei sul punto di scoprirlo. Nelle fasi iniziali della carriera di Buddy Holly, le case discografiche espressero preoccupazioni riguardo a potenziali difficoltà di marketing dovute a possibili errori di ortografia o pronuncia del suo cognome. Come soluzione rapida, Buddy adottò il nome D'Arte Holly, rimuovendo la E dal suo cognome. Per un certo periodo, Buddy Holly si esibì con questo pseudonimo, ma man mano che la sua carriera cresceva e il riconoscimento aumentava, la necessità di nascondere il suo vero nome diminuiva. Ora aveva fan che volevano conoscere il suo vero nome e sarebbero stati felici di pronunciarlo e scriverlo correttamente. Col tempo, il pubblico e l'industria abbracciarono completamente il suono distintivo e la persona di Buddy Holly, rivelando l'alter ego di Charles Hardin. Guidando i crickets, Buddy Holly intraprese un viaggio trionfale segnato da numerosi successi. Il soprannome The Crickets divenne sinonimo di rock'n'roll innovativo e influente. lasciando un segno indelebile nella storia della musica. L'origine di Peggy Sue, una serie di prove e la morte di un giovane icona. Nel 1957, Buddy Holly e The Crickets iniziarono a creare quella che sarebbe poi diventata un classico di grande successo. L'origine di Peggy Sue può essere ricondotta al legame di Buddy Holly con Peggy Sue Geron, una giovane donna originaria della loro città natale, Lubbock, Texas. Peggy Sue, non solo un'amica, ma anche legata sentimentalmente al batterista dei crickets, Jerry Allison, conobbe Buddy Holly. Ciò che avviò l'intera storia di Peggy Sue fu una breve separazione tra Peggy Sue e Jerry Allison. Durante una sessione di registrazione, Buddy Holly pensò di intitolare la sua prossima canzone, Cindy Lou, nome di sua nipote, ma Jerry Allison, che attraversava un momento difficile nella sua relazione con Peggy Sue, pregò Buddy di rinominare la canzone Peggy Sue per impressionarla e riconciliarsi con lei. Questo colpo di fortuna diede vita a Peggy Sue, non solo come canzone che ripristinò la relazione tra Holly e Jerry Allison, ma anche come uno dei brani preferiti di Buddy Holly. Il successo della canzone fu alimentato da riff di chitarra contagiosi, da una produzione innovativa e dallo stile vocale distintivo di Holly. Pubblicata come singolo nel 1957, Peggy Sue conquistò rapidamente le classifiche, assicurandosi il suo posto nella storia della musica. La popolarità duratura della canzone trascese i decenni, come dimostrano le innumerevoli versioni di altri artisti, testimonianza del suo fascino senza tempo. La vera storia dietro il titolo del capolavoro musicale Peggy Sue verrà rivelata prima della fine di questo video. Sei curioso di saperlo? In un altro ambito, nella vita personale di Buddy Holly, l'amore bussò alla sua porta in forma di Maria Elena Santiago. I due si incontrarono per la prima volta in una casa di produzione musicale dove lavorava Maria Elena. Fu un incontro breve e dolce che suscitò una connessione immediata e la loro storia d'amore iniziò rapidamente. Solo cinque ore dopo averla conosciuta, Buddy le porse una rosa e le chiese se voleva sposarlo. Subito dopo, la loro corte si sviluppò rapidamente e dopo appena due mesi dal primo incontro, Buddy e Maria Elena decisero di sposarsi. I dettagli della proposta e del matrimonio non sono ampiamente documentati, a parte i racconti vocali di Maria, ma è chiaro che il loro legame era forte e duraturo. Tutti erano felici. Buddy Holly trovò in Maria Elena una compagna che condivise il suo percorso e rimase al suo fianco. Ora, torniamo alla carriera musicale di Buddy Holly. I crickets affrontarono un ostacolo significativo nella loro relazione professionale con Norman Petty, che ricopriva i ruoli di manager e produttore. Sebbene inizialmente fosse stato fondamentale nel plasmare la loro identità musicale e nel garantire un contratto discografico, l'approccio gestionale di Petty divenne un problema controverso per la band. Sorsero preoccupazioni, in particolare riguardo al controllo di Petty sulle finanze del gruppo, portando a crescenti tensioni poiché i crickets percepivano una distribuzione ingiusta delle loro entrate. Ma non è tutto. La sfida andò oltre la cattiva gestione finanziaria, con Buddy Holly, che esprimeva un crescente disagio per gli accordi finanziari orchestrati da Petty. Nonostante producessero successi in classifica, la band sentiva di non ricevere la giusta parte delle entrate generate. Questa continua pressione finanziaria alimentò l'ostilità tra Holly e Petty, culminando in una frattura all'interno della loro relazione professionale. In mezzo a dispute finanziarie, emersero sfide interne tra i crickets. L'aspirazione di Buddy Holly ha un maggiore controllo creativo, si scontrava con l'influenza di Petty sulla direzione della band. Holly, spinto a sperimentare la sua musica, mirava a superare i confini e a mettere in discussione le norme consolidate. Questa divergenza creativa, unita ai risentimenti finanziari, portò infine Holly a rompere i legami con Petty e a sviluppare la propria compagnia di produzione, la Prism Music. La decisione decisiva di Buddy Holly di sciogliere i legami con Petty segnò un momento cruciale nella sua carriera. Spinto dalla ricerca di una maggiore indipendenza e libertà artistica, Holly era determinato a tracciare il suo percorso unico nell'industria musicale. Sfortunatamente, questo promettente viaggio fu bruscamente interrotto quando Buddy Holly, insieme ai musicisti Richie Valens e J.P. Richardson, incontrò una tragica fine in un incidente aereo il 3 febbraio 1959, un evento ricordato per sempre come il giorno in cui la musica morì. Ecco come si svolse la tragedia. Mentre Buddy Holly, Richie Valens e J.P. The Big Bopper Richardson si trovavano nel difficile tour del Winter Dance Party nel Midwest, le dure realtà del viaggio ebbero un impatto sul loro benessere fisico. L'autobus del tour, privo di un adeguato riscaldamento, lasciò i suoi occupanti vulnerabili alle spietate condizioni invernali. Insoddisfatto del disagio del viaggio in autobus, Buddy Holly decise di noleggiare un aereo per il viaggio verso Moorhead, Minnesota, sigillando inconsapevolmente il loro destino. La scelta dei passeggeri per il volo sfortunato divenne essa stessa un colpo di scena. Inizialmente, Waylon Jennings, un membro della band di Buddy, ottenne un posto ma lo cedette altruisticamente a J.P. Richardson che era malato di influenza. Richie Valens, inesperto dei viaggi in aerei piccoli, affrontò una miscela di eccitazione e ansia mentre otteneva il suo posto tramite un lancio di moneta contro il compagno di band Tommy Halsup. Il pilota ventunesimo, Roger Peterson, sebbene motivato, non era attrezzato per affrontare le difficili condizioni meteorologiche di quella notte. partendo da Mason City, Iowa, il volo avrebbe dovuto essere breve ma la tragedia colpì quando l'aereo perse il controllo schiantandosi in un campo di mais e causando la morte di tutti a bordo. I rottami, coperti da una coltre di neve, rimasero non scoperti fino alla mattina seguente. L'impatto profondo di questo evento scioccante portò il cantante Don McLean a immortalizzarlo come il giorno in cui la musica morì nella sua iconica canzone American Pie. Questo termine è diventato da allora universalmente accettato per riassumere la profonda tragedia. Sebbene il rapporto dell'incidente aereo attribuisca l'incidente a una combinazione di cattive condizioni meteorologiche e errore del pilota, l'effetto emotivo dell'incidente supera questi dettagli clinici. Numerosi esse rimangono quando si rivede quella fatidica notte. E se Waylon Jennings non avesse ceduto il suo posto? E se il lancio di moneta avesse favorito un esito diverso per Richie Valens? E se avessero posticipato il viaggio di un solo giorno? Queste domande sono dolorosi promemoria della fragilità della vita e dei rapidi colpi di scena del destino. In quel momento agghiacciante il mondo si congedò da tre brillanti musicisti eppure la loro eredità musicale perdura come un'amara testimonianza di ciò che è stato e di ciò che avrebbe potuto essere. Dopo il tragico incidente aereo che costò la vita a Buddy Holly un'inchiesta del coroner stabilì che Holly subì un grave trauma cranico ed essere stato sbalzato fuori dall'aereo all'impatto portando a una morte quasi istantanea. L'indagine ufficiale del Civil Aeronautics Board rivelò che il pilota mancava dell'esperienza necessaria per volare di notte portando a ulteriori domande sulle circostanze che circondarono l'incidente. Tra le varie teorie del complotto una suggeriva che Holly potesse aver accidentalmente sparato al pilota con la sua pistola. per affrontare questa situazione il figlio di Peterson fece riesumare il corpo del padre nel 2007 ma un'autopsia confermò che la causa della morte erano gravi ferite interne. Un'altra teoria suggeriva che un componente critico dell'aereo mancasse durante il decollo. Nei mesi precedenti all'incidente la moglie di Holly e Maria condivise inquietanti sogni che prevedevano una tragedia imminente. In un'occasione Maria sognò di una palla di fuoco che cadeva e causava un'esplosione con un enorme cratere. Al risveglio raccontò l'incubo a Holly il quale a sua volta descrisse il suo sogno che riguardava un aereo con sua moglie e suo fratello in cui si sentiva costretto a lasciare sua moglie sul tetto di un edificio. Maria inizialmente prevista per accompagnare Holly nel suo Tour Winter Wonderland rimase a casa a causa di nausee mattutine. Sfortunatamente dopo la scioccante notizia della prematura scomparsa di Holly lei subì un aborto spontaneo. Negli anni sono circolate voci riguardo alla morte di Buddy Holly. Un rumore interessante riguarda la presunta maledizione di Buddy Holly. Questa teoria speculativa suggerisce che chiunque fosse coinvolto nelle conseguenze dell'incidente comprese le persone che toccarono i suoi beni sperimentasse sfortuna o tragedia. Tuttavia questa superstizione manca di una base fattuale. Ci sono anche speculazioni sulle circostanze che portarono all'incidente aereo. Alcuni rumor suggeriscono che Buddy Holly e i suoi compagni di band Richie Valens e JP the Big Bopper Richardson potrebbero aver subito pressioni per noleggiare il volo sfortunato a causa di un programma serrato o altri fattori esterni. Sono emerse anche teorie del complotto che mettono in discussione la versione ufficiale dell'incidente. Alcuni sostengono che l'incidente sia stato sabotato e altri dubitano delle capacità del pilota. Buddy Holly non era semplicemente il tipo noto per le sue melodie orecchiabili. In un'epoca in cui gli artisti avevano spesso un controllo minimo sulla propria musica Buddy sfidò la norma. Difese con coraggio la sua libertà artistica arrivando persino a rompere i legami con la Decca Records a causa di differenze creative. Le sue azioni tracciarono una strada per gli artisti successivi dimostrando che i musicisti potevano essere più di semplici interpreti potevano essere creatori prendendo in mano il proprio destino. Un altro fatto curioso su Buddy è la sua predilezione per strumenti insoliti. Sebbene fosse principalmente celebrato per la sua maestria con la chitarra Buddy nutriva un profondo affetto per suoni non convenzionali. Un esempio di ciò si trova nella sua registrazione di Every Day dove incorporò una celesta un raro strumento a tastiera poco conosciuto all'epoca. Questa scelta non era solo un esperimento isolato ma un testamento della sua incessante ricerca di innovazione spingendo costantemente i confini dell'espressione musicale. Adesso parliamo di un mistero centrale rimasto nascosto fino alla prematura morte di Buddy la sua vita familiare la sua relazione con i fratelli era turbolenta alimentata da rivalità professionale e dissapori personali irrisolti. Durante l'infanzia Buddy studente brillante mostrava anche un lato birichino indulgenze in scherzi che infastidivano i suoi insegnanti ma portavano gioia ai suoi compagni di classe aggiungendo un ulteriore strato alla complessa personalità di Buddy c'è un aspetto meno noto di lui la sua fascinazione per il misticismo famoso per aver raccolto una collezione di libri sui fenomeni paranormali Buddy un tempo cercò la guida di un indovino riguardo alla sua carriera l'oscuro avvertimento di procedere con cautela verso il futuro inizialmente liquidato con una risata appare ora inquietantemente profetico a posteriori facciamo anche un passo indietro per rivedere il tragico incidente aereo di Buddy Holly tra i rottami i suoi iconici occhiali neri con montatura a corno emersero come simboli principali dell'era del rock and roll e della prematura perdita di una stella luminosa nel corso degli anni questi occhiali assunsero una vita propria inizialmente scoperti sul luogo dell'incidente da un contadino di nome Tommy Alsup Tommy sfuggì per un soffio all'essere sul volo sfortunato perdendo un lancio di moneta contro Ricci Valens nel tempo questi occhiali cambiarono di mano passando attraverso vari individui collegati agli eventi tragici in un'incredibile svolta degli eventi nel 1988 dopo essere stati persi per anni gli occhiali furono recuperati il loro ritorno alla famiglia di Buddy Holly segnò una speciale riconnessione con il suo lascito musicale e un costante promemoria degli eventi tragici accaduti nel 1959 gli occhiali divennero quindi artefatti della storia del rock and roll anche oggi lo stile di questi occhiali rimane di tendenza trascendendo il tempo come un'icona senza tempo un altro interessante segreto oscuro riguardante la vita di Buddy Holly è la sua canzone di successo Peggy Sue e il reale significato e ispirazione dietro di essa nella sua autobiografia scritta molti anni dopo la tragica morte di Buddy Holly Peggy Sue Gerron mise in discussione con coraggio la credenza ampiamente accettata riguardo alla famosa canzone contrariamente alla comune convinzione che fosse dedicata a Jerry Allison il batterista di Buddy Peggy Sue avanzò un argomento convincente la canzone non era semplicemente un omaggio a Jerry ma rifletteva piuttosto un'appassionata relazione triangolare che coinvolgeva lei stessa la sua cara amica Maria Elena Santiago e Buddy Holly la parte della storia di Peggy Sue offre una prospettiva diversa sull'ispirazione di Holly dietro l'iconica canzone dimostrando che il suo legame con Buddy era molto più profondo di un semplice coinvolgimento romantico che includeva Maria il libro esplora con attenzione tutti i dettagli succulenti di questo presunto triangolo amoroso sia che tu scelga di accettare questa prospettiva alternativa o di rimanere alla narrazione convenzionale la decisione spetta a te poiché nessuno conosce realmente l'ispirazione effettiva per la canzone l'influenza di Buddy Holly nella musica di oggi è evidente con numerose band e artisti che traggono ispirazione dai suoi contributi pionieristici al rock and roll molti musicisti contemporanei vedono Buddy Holly come un precursore che non solo ha plasmato il genere ma ha anche trasformato il modo in cui gli artisti si rapportano alla propria musica il suo impatto è particolarmente evidente nel modo in cui ha dimostrato che i musicisti possono essere sia interpreti che creatori mantenendo il controllo sul proprio destino artistico diverse moderne band citano Buddy Holly come modello celebrando la sua innovativa scrittura di canzoni e il suo stile vocale distintivo i Beatles uno dei gruppi più iconici nella storia della musica hanno apertamente riconosciuto l'influenza di Buddy Holly sul loro lavoro le sensibilità melodiche di Holly e le sue canzoni orecchiabili hanno lasciato un'impronta indelebile sull'approccio alla scrittura dei Beatles influenzando le loro prime composizioni anche Bruce Springsteen un'altra figura influente nella musica contemporanea ha espresso ammirazione per il lavoro di Buddy Holly Springsteen noto per le sue energiche esibizioni dal vivo e il suo racconto sincero riconosce l'influenza di Holly sul proprio approccio alla scrittura di canzoni e alla presenza scenica oltre alle influenze musicali dirette il nome e l'eredità di Buddy Holly continuano a risuonare nella cultura popolare attraverso vari programmi e canzoni innumerevoli musicisti rendono omaggio a Holly facendo riferimento al suo nome nei loro testi e il suo nome appare spesso nelle discussioni sulle radici del rock and roll infatti i programmi televisivi e i film includono frequentemente menzioni di Buddy Holly riconoscendo il suo impatto duraturo sull'industria musicale ad esempio canzoni come American Pie di Don McLean immortalizzano Buddy Holly e il tragico incidente aereo che gli costò la vita questa canzone iconica funge da bel promemoria della grande perdita subita dal mondo della musica quel fatidico giorno del 1959 l'influenza duratura di Buddy Holly si può osservare anche nella continua celebrazione del suo catalogo vari concerti e eventi tributo rendono omaggio alla sua eredità assicurando che nuove generazioni di appassionati di musica scoprano e apprezzino i suoi contributi senza tempo al genere rock and roll quindi siamo davvero curiosi cosa sai o cosa hai sentito di più sulla vita personale e lavorativa di Buddy Holly e naturalmente qual è la tua canzone preferita di Buddy Holly di sempre potrebbero esserci più di una perché le nostre sicuramente sono condividile con noi nei commenti ci piacerebbe sapere grazie per aver guardato un altro episodio clicca sul prossimo video sul tuo schermo per ulteriori contenuti di più Drew